3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! Ciao bambini! Come state? Stavo giusto giusto guardando il calendario e... Il Natale si avvicina! Che meraviglia! È la mia festa preferita! Suono di campanelline! Per incontrarvi! Stavo facendo un giretto sulla mia slitta per studiare la strada che dovrò fare la notte di Natale per portarvi regali! 3, 2, 1, via! Soccolata! 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 Soccolata!